sapete qual è il nemico numero uno delle gambe gonfie e pesanti è il caldo estivo cattivone sì è una brutta notizia ma poi ne ho anche una buona il caldo dilatta i capillari e le pareti delle vene che perdono elasticità e non pompano più bene il sangue si creano ristagni che rallentano la circolazione le gambe non diventano solo gonfie ma anche intorpidite e doloranti la buona notizia è che con il caldo finalmente possiamo liberarci di calze scarpe e indumenti stretti sì ma non basta dici cosa fare ma ecco altre 5 buone notizie 5 strategie infallibili cibo deve essere iposodico con poco sale contro la ritenzione idrica per favorire l'elasticità delle vene la circolazione deve essere ricco di cereali integrali con vitamina b verdura verde con clorofilla e frutta con vitamina c e bioflavonoidi come fragole melone e ananas 2 acqua bere acqua naturale a temperatura ambiente se vogliamo potenziarla beviamo acqua e detox o tisane leggermente drenanti di betulla o depurative di ortica 3 esercizio camminare ma almeno 30 minuti al giorno i muscoli che si contraggono durante il movimento pompano il sangue verso l'alto 4 doccetta fredda a fine doccia un bel getto freddo sulle gambe per almeno 5 minuti tonifica i vasi stimola la circolazione e drena i liquidi in eccesso 5 postura nel sonno quando si dorme tenere le gambe un po più sollevate rispetto alla testa basta mettere un cuscino sotto le caviglie questo facilita il ritorno venoso dalle estremità verso il cuore piccole strategie naturali seguite ogni giorno fanno una grande differenza se anche tu ami la salute naturale metti un bel mi piace condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao